Grande risultato oggi in quinta commissione per la maggioranza che ha approvato il regolamento per la compartecipazione con tre mesi di anticipo rispetto all'anno scorso e con un'altra importante novità per i sindaci e quindi per i comuni dove la spesa verrà anticipata del 100% rispetto dell'anno scorso che era prevista solo del 50%. Quindi diamo questa bella notizia ai comuni, continuiamo a lavorare in maniera implacabile su questo fronte cercando di migliorarci anche per gli anni futuri. Rimane il rammarico per noi della maggioranza, per il Movimento 5 Stelle che ha deciso di votare contro la circolare attuativa quindi non ha ritenuto opportuno assumere la responsabilità come ha fatto una parte della minoranza e la maggioranza di dare seguito e vita subito al regolamento.